Profughi in rivolta poco dopo mezzanotte e mezza all'ex Hotel Alpi di Via Alto Adige. In 130 hanno protestato, urlato e si sono dati agli schiamazzi. Mancanza di beni di prima necessità, nello specifico di latte, volontà di ottenere documenti come il codice fiscale. Questi i motivi dei disordini di questa notte, calmati soltanto grazie all'arrivo immediato di polizia e carabinieri. A segnalarlo già in nottata la nostra redazione è stato il consigliere comunale della Lega Nord Marco Galateo, il quale afferma un applauso alle forze dell'ordine che hanno gestito con umanità la crisi di questa notte. Ormai però è palese che non siamo più in grado di ospitare profughi nonostante il lavoro di volontari e forze di polizia.